Buongiorno amici e bentornati sul canale, oggi è sabato quindi nuova avventura paranormale ci troviamo sempre a Villesbertoli per la seconda parte della visita a questo luogo da brivido non mi dilungo molto e vi lascio alle immagini che sono veramente wow e voi mi raccomando iscrivetevi al canale perché la maggior parte di voi che guarda i miei video non è iscritta ma aspetto i vostri commenti qua sotto, i like e ci vediamo se volete anche sui social ciao buongiorno abbiamo presenze qui con noi oggi che ci accompagnano in questo tour è vero? Grazie a tutti Ci sono anime dei pazienti rimasti qui con noi Che hanno voglia di comunicare con noi Ciao Pippi Sì ma qua ci sono disegni di famiglia Vi lascia proprio il devasto Grazie a tutti Ok Ah insomma mi ha fatto il contrario Grazie a tutti E anche a pera mastodontica In questo posto meraviglioso È rimasto qualcuno Facciamo un'altra cosa Metti l'aspirit e giriamo con l'aspirit Abbiamo qualcuno qua con noi Ci volete guidare? Io so Di quale? Di qua dove? A destra? Dobbiamo venire a destra? Io vado dritto Voi ditemi se siete qua Dobbiamo andare indietro? Sotto scala Sotto scala Grazie a tutti. 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 Sei qua a destra? Sei qua? Sali? Sali? Dobbiamo salire? Sì. 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 Posso salire su? Sì. 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 Come ti chiami? Sì. 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 No c'è te quei? Sì. Sei qua vicino a noi? Sei qua vicino a noi? Sei passato di qui? Sei passato di qui? Sì. Chiudiamo il bambino. Siete tranquilli qui? Perché non avete trovato la luce? Siete tranquilli qui? 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 Siete tranquilli qui?